Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio su The Last of Us Oh Dio! Che schifo! Eh sì, lo so Madonna però Figa, non sono sopravvissuti o dei semplici banditi Cristo, questi sono dei cannibali del cazzo Ma Cristo Santo, ma... Comunque, niente medikit ragazzi Ah, eccola là! Ok, andiamo subito L'abbiamo trovata, perfetto Oddio It's a Mortal Kombat Eccolo là, il coltellazzo Ah, bisogna andare Ai ai, sarà difficile Dai, con calma Ah no, è il macete Ci metti passione A rendersi va bene Non vergognarti Aia È uno stronzo questo debito ragazzi Non è il tuo stile Bastarda Bastardo Vuoi provare a supplicarmi? Fanculo Aia Ascoltami bene Tu non hai idea Di cosa sono capace Devi morire Muori Muori Oh, brava El Si fa così Basta Basta Non toccarmi È tutto ok Sono io Sono io Sono io Guardami, guardami Sono io È tutto ok È tutto ok Oddio Ok Bastardo Dovevi morire Bello quel macete Bellissimo Devo dire Ok Con calma Ragazzi Si va avanti E si uccide Sempre più gente Fondamentalmente Funziona così Oh Primavera Uh Hanno cambiato Un po' gli abiti Dov'è Joel? Ellie Mi hai sentito? No Che? Eh beh Guarda Ospedale È la nostra uscita Oh Andiamo su Dai Ragazzi Speriamo che ci sia ancora un Cristo di qualcuno però eh Sentito che prezzo In giornate come questa vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chiedata Eh beh Quando questa storia sarà finita ti insegnerò a suonarla Già penso proprio ti piacerebbe Dov'è? Che dici? Ok Non parla Giusto? Oi Oi I corvi che scappano non sono un buon segno Controlliamo Eh la madonna quanta roba Eh la madonna quanta roba Allora Mazza da baseball o tubo? Oddio Tubo No mazza 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 Ok L'altra notte ho sognato di volare Eh beh è giusto Già Ok mettiamo il Fucil a pompa Poi Abbiamo la possibilità di fabbricare un bel medicit Perché no? Può essere utile Potenziamo anche la mazza E basta Possiamo andare Ok Ok Hospital Di là Oddio la Oddio Quanto è grande I non mi piace Un'altra città Un'altra zona di quarantena è abbandonata La cosa che più non mi piace è che Perché non c'è nessuna guardia? Cristo Non Non mi piace Nell'ospedale di cui ci aveva parlato la luce Forza piccola Andiamo dai Tanto come La La cosa di scienze La La stanza Cioè Forse di qui tagliamo no? Eh sì forse Credo che non siano qua ragazzi Verre Cioè Credo Ho già visto Non ci sono qua ragazzi Dai Perché Non c'è nessuno a fare da guardia Oh Possiamo fabbricare un nuovo medici No Cazzo Ok Andiamo Potremmo usare quella scala Come mai Ellie non parla Non Non capisco il perché Oi Pillolee Ok Ma Ok Vieni Ellie Dai Ci siamo E infatti Dicevo Ellie Ellie Cosa La scala Dai Ci sto Cosa Dai Vieni Ellie Va Mi sembra strana Ellie Ok La scala Ok 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 con calma Ellie Non capisco perché si comporti così Oh mio Dio Che succede Ellie Ellie Perché è scappata Ragazzi Che cosa c'è Ma che Mi stai prendendo in giro Cosa c'è Non capisco Ellie Che cosa ha visto Rega Non capisco C'è qualcuno Ellie che cazzo hai Una giraffa Una giraffa Va bene Va bene È tutto ok Vieni Vieni Ehi bella Vieni dai Forza Eh beh Ma che forza Dio Un po' fa ridere Ma che fate Dai Porta Andiamo Dai ma calmati Oddio Sì sto arrivando Ok il tetto Andiamo Ellie Dai Oddio Quante giraffe Eh ma all'ospedale Non c'è nessuno Ragazzi Ok Allora È interessante Come ti aspettavi È i suoi alti e bassi Ma Il panorama non è male Eh beh Bella scena Però Dobbiamo andare all'ospedale Devo Dobbiamo scoprire Non siamo obbligati a farlo Questo lo sai Vero Oddio Abbiamo altre opzioni Tornare da Tommy Farla finita con questa cazzo di storia Giustamente Dopo quello che abbiamo passato Direi di no Dopo tutto quello che ho fatto Non può essere tutto inutile Ok dai Non mi piace però Il fatto che siano scomparse tutte Secondo me è un brutto segno Dai andiamo Ok Tutto ciò che dobbiamo Andremo ovunque Tu vada Ok Ok Non me ne vado Senza di te Perciò muoviamoci E facciamola finita Giustamente Ok Comunque ripeto C'è qualcosa di strano Anche qua Perché Non c'è Non ci sono guardie Non c'è niente Cioè Boh Troppo strano Voglio controllare bene Perché non si sa mai Un bel car armato Questo posto riavoca ricordie Che cosa? Dicesse dopo che cominciarono i casini Ero in un centro di soccorso come questo Ovunque guardassi Vedevi Vedevi fan di attrezzi Ebbè Il mondo intero Era andato sotto a sopra In un batterbocchio Avevi già perso Sì Esatto Non riesco a immaginare Cosa vuol dire D'amore Un bel carino Così tanto Per perdere tutto ciò che conosci Vabbè tranquilla Non è stata mica colpa tua È stata colpa di Tommy Mettiamola così Dai Per come l'ho vista io Oh Attrezzi di livello 4 Alleluia Ok Tanto Ripeto C'è qualcosa di strano Non c'è nessuno Ancora nessuno Nessuno Nessun sparo Troppo strano Del tipo Del tipo Una cosa Una cosa lo capite Dal passato Non si scappa Eh beh Vero Grazie Ok Ci stiamo avvicinando sempre più Sempre di più Però Questo è il problema Secondo me Secondo me Non c'è più nessuno Oltre a zombie Ehi Dai su Ellie Vieni San Maria San Maria San Maria San Maria Di qua Guarda Cazzo No 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 Un bloater Un bloater No 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 un bloater Vabbè ragazzi Sappiamo come sono fatti Non ci sentono Cioè Non ci sentono è una bella parola Non ci vedono Ma ci sentono Oh Cristo Con calma Con calma Con calma Non voglio combattere contro un bloater Troppo forte Proviamo ad andare oltre ragazzi La nostra sfiga più totale sono i runner Se ci becca uno di quelli Siamo morti Questo è sicuro Oh Cazzo Ok Non è molto facile Ok con calma Controlliamo qua cosa c'è Oh Quanta roba Ok Ok Cazzo Cazzo Ok calma Calma Ok 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 C'ho paura Lo devo ammettere Sono un po' troppi per i miei gusti Mattoni Oddio Ma cos'è la festa? Si sono riuniti tutti Cristo Madonna Quanti Oh no Ci Oh No Oh no 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 Calma Non di qua Non di qua Non di qua Ragazzi Di là c'erano due zombie soli Yeah Io proverei di là Eh anch'io le odio Ellie Mamma mia quanti sono Ok ce ne sono solo due Si può provare L'altro col coltello O proviamo a mano A mano Ok 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 No Questo è un punto Cioè No no ok Ok si può andare Prendiamo intanto tutto Molto rischioso però ragazzi Anzi Troppo Di una porta Eh non si può aprire Porca puttana Nella merda Dobbiamo trovare un modo Per non Cioè per far si che i runner Non mi vedano Perché loro Potendo vedere Sono l'unica arma Che mi può fermare Diciamo Invece i blodder I blodder Come cazzo si chiamano Sono forti Vero Si quello Quello è vero Però hanno un piccolo Una pecca Non vedono E sono lenti Quindi abbiamo due possibilità Per passare di qua O Faccian si che tutti Non ci vedano O faccian così Perché se no Moriamo Fermi qua Non mi piace questo zombie Fermi immobili Ok calma Il sangue è freddo Di coltello ragazzi Questo è da eliminare Per forza Ok Perfetto Ho paura Oddio No Oh oh Potremmo salire Usando la cassa Eh si No Vieni Ellie Però muoviti C'ho paura Pompa in mano Sono pronto Dai Veloci veloci Non mi piace Ragazzi Sinceramente Forse una delle cose Più stupide Che Possono capitare Ellie Quando butterei giù Quella cassa Io morirò Quindi Ti prego Muoviti Ah Ah ok Non hanno sentito Il rumore Beh ma allora Vaffanculo Dai Su Allora ok Chi se frega Ok Ok Ora Non credo Riescano a raggiungerci Lo dici te Eeeh Fa attenzione L'acqua sembra profonda Ok Con calma Eh si Giustamente Salta Ah ha saltato Di già Ok E qua Come diavolo Vabbè Si dai Non No si dai un cazzo Eeeh C'è una No sento Sento dei Dei cosi Porca puttana Ok Dall'altra parte D'accordo Arriva Ah ok Ok Perfetto Non mi piacciono i versi Cioè c'è ancora qualcuno Qualche zombie c'è di sicuro Ok Vieni Ellie Ellie Vabbò Muoviti Dai vicino al burto Lì è più bassa Ok Oh oh Ed ecco un'altra porta chiusa Con uno zombie dentro Ai 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 Allora Sparare Non posso Però potrei provare una cosa Eh ragazzi Proviamoci Non si sa mai Può funzionare Dobbiamo eliminarlo Per forza Quello zombie Quindi Con calma Uno Due Tre Ah ma era già morto Ok Allora Adesso c'è solo un piccolo problema No Non si Non Non capisco come passare Cioè Che problema da qua Boh Non credo No infatti Ah di qua Ok perfetto Dammi il piede Dai Ellie muoviti Dai Apri quella porta Ok Vai Ellie Ok Perfetto Grazie Ellie Recuperiamo la freccia Che abbiamo sprecato Però ragazzi Cioè Mi sembrava ancora vivo Cioè Lì fermo immobile Ma vivo Per quello Ho dovuto spararla Ok Direi subito Di potenziare È ora di mettersi al lavoro Eh sì Sì Potenziare un Bene amato Cazzo Fondamentalmente Allora Proviamo un po' Allora vedrei Eh di No È inutile Potenziamo Potenziamo la prima pistola Con la capacità del caricatore Un po' aumentata Ok Ora ci mancheranno Ci mancano solo Una decina di pezzi Vabbè Andiamo Ragazzi Per questo episodio è tutto Come sempre Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi al canale E al prossimo video Ciao a tutti ragazzi